Oggi inizia la campagna elettorale in provincia di Cuneo, abbiamo fatto la presentazione dei candidati, sei candidati che ricoprono tutta la provincia di Cuneo, sono stati scelti in modo ovviamente democratico interno nelle sezioni, le 25 sezioni che compongono la provincia di Cuneo come Lega Nord. Queste 25 sezioni passeranno a breve, entro fine anno, a 30. Sezioni che sono sezioni della Lega, sezioni che aprono e non è che chiudono dopo le elezioni, sezioni che sono a disposizione della gente per informazioni, per pratiche, per sveltire la burocrazia che ogni giorno affligge questa Italia. I nostri candidati sono i due assessori, Claudio Sacchetto nel Cuneo, Federico Gregorio nella zona albese ebraidese, poi abbiamo Antonio Camisassi nella zona del Saluzzese, Monetto Sara nella zona del Monregalese e Nanni Ghilardo nella zona del Cebano Altalanga e infine Guido Ghione nella zona del Saviglianese. Questi sono i uomini di punta della Lega, come potete ben constatare tutti, sono stati spalmati in modo adeguato sulla provincia di Cuneo. Oggi la presentazione è stata eccellente con la presenza del candidato alla presidenza della Regione Piemonte del centro-destra PDL Lega, Roberto Cota. Oggi con un po' di neve partiamo una campagna elettorale che sarà entusiasmante perché Roberto Cota crediamo, siamo fermamente convinti anzi, che è una persona umile e capace di interpretare i bisogni della gente e le istanze del territorio.